Nicola Switchel ha detto che il principe Ferry e Meghan Markle, sono eccessivamente sensibili aggiungendo che dovrebbero usare i media piuttosto che criticarli. Il corrispondente reale della BBC, ha criticato il principe Ferry definendolo paranoico, e fuorviato per i suoi ultimi attacchi ai media britannici. Nicola Switchel, 70 anni, che andrà in pensione alla fine dell'anno dopo 25 anni di reporter sulla famiglia reale, ha detto che il principe Ferry e Meghan Markle, sono eccessivamente sensibili, aggiungendo che dovrebbero usare i media piuttosto che criticarli. Wichell, ha detto che il duca e la duchessa di Sussex, dovrebbero essere più preparati ad affrontare i momenti positivi, durante una recente intervista con il Sunday Times. Ha detto che è stata una enorme perdita quando il duca e l'olandese del Sussex, si sono trasferiti negli Stati Uniti, aggiungendo che se fossero stati preparati a impegnarsi di più e se Meghan fosse stata meno impaziente e meno incline a vedere bene intendendo le persone in qualche modo contro di lei, la coppia avrebbe potuto ottenere molto nell'ambito dello studio. Il corrispondente reale ha respinto le voci secondo cui Buckingham Palace, era contro di loro fin dall'inizio, dicendo che la loro squadra si è fatta in quattro per accoglierli e per essere in sintonia con lei.